Ennesima ondata di furti nel territorio di Scoppito e qualche trucchetto per accertarsi della presenza dei proprietari in casa, tant'è che proprio ieri sera intorno alle 22 in un condominio di Cansatessa qualcuno si è divertito a suonare a tutti i citofoni chiedendo di un ipotetico avvocato. Da giorni ormai i cittadini denunciano furti o tentati furti e soprattutto la presenza di una Fiat Panda Bianca sospetta, particolare di cui sono state informate anche le forze dell'ordine. L'ultimo furto di entità cospicua è avvenuto a Collettara due notti fa nel territorio comunale di Scoppito, in una zona prima del paese vecchio che ha diverse ville ed abitazioni. Qui i ladri sono entrati in una casa verso le 19.30 presumibilmente, con i proprietari che non erano in casa in quel momento, ma che avrebbero poi riferito di aver incrociato appunto sulla strada di casa mentre tornavano una panda bianca. Solo al rientro nell'appartamento si sono accorti dell'ingresso indesiderato, informando subito i carabinieri della Compagnia dell'Aquila che sono intervenuti a furto ormai consumato nessuna traccia dei ladri nella zona. I malviventi per entrare nella casa a due livelli hanno forzato una porta finestra al pian terreno. Ingenti danni e secondo una prima ricostruzione sono stati portati via gioielli in oro di valore si stima sugli 8.000 euro. La casa non ha telecamere di videosorveglianza, ma era dotata di sistema di allarme. L'istituto di vigilanza, che cura molte case però in quella zona, non avrebbe ricevuto nessuna chiamata. Le forze dell'ordine però avrebbero una parte della targa che gli sarebbe stata fornita proprio da chi ha avvistato la panda bianca. Nei giorni precedenti sotto assedio c'era stata invece la zona di Civitato Massa. I ladri sono riusciti a portare via oggetti e soldi in alcuni appartamenti, in altre forze disturbate dai proprietari e dai cani sono andati via, facendo danni però a porte e finestre per tentare di entrare. Le denunce presentate alla locale stazione dei Carabinieri sarebbero state diverse. Da parte delle forze dell'ordine c'è sempre l'invito a denunciare questi fatti per avere contezza di un fenomeno che altrimenti rischia di rimanere sommerso.